Allora, c'è qualcosa da dichiarare signori? Siete già in grado di dire? Qualcuno deve dire qualcosa e chi è che parla? Allora, io sono stato molto positivo, nevosi, facciamo un tanti auguri a te, un tanti auguri a te, anche alla ragazza, potremmo scegliamo un attimo. Allora, il lirico, eccolo là il lirico, il lirico sei stato molto bravo perché è un bravo molto difficile, insomma, il personaggio ci vuole molta voce per farlo, quindi sei stato molto bravo sicuramente studierai su qualcosa, poi più avanti, o già stato su qualcosa, ma sei stato molto bravo.